Signori, questa puntata sarà un altro crocevia per il nostro Aros, ci giocheremo una finale di coppa, ci giocheremo l'accesso a un'altra alla finale di Europa League e poi una partita e ci sarà anche una partita di campionato che dovremmo cercare di vincere perché non vinciamo da troppo tempo. Signori, tutto questo oggi è la carriera del nostro Aros e ci partiamo da questo, ci partiamo in Europa League, ci partiamo dalla nostra cara Europa League, se in finali ritorno la fare rigorosamente con tutti i titolari, rigorosamente. Al massimo gestiamo un po' la squadra, vediamo un po' senza intanto è salito 80 di overhaul, simula 81, bene, io, Gessen è stanco, Galeano è stanco, sono tutti stanchi, io, vado io, ci vado io, ci vado io, ci vado io, ci vado io, io, Ansel è stanco, sono tutti stanchi, io, facciamo che restano questi, che restano questi, facciamo che restano questi. Signori, partiamo da 3-1 l'andata, loro per batterci devono vincere, eh devono vincere, già con 2-0 passano loro, se noi facciamo un gol, dovremmo farne 3 per andare supplementare, se ne facciamo 2 dovrebbero farne 5, tipo, siamo messi bene, non abbiamo garanzia di passare il turno, ma siamo messi bene, andiamocelo a giocare, dai ragazzi, ok, bene, bene, così, eccoci, a Aufschalk Arena, abbiamo un buon vantaggio da difendere, dell'andata, ma temo che non sarà facile, ecco qua, fase di migliazione diretta, non sappiamo cosa sta succedendo di là, ma vedremo, insomma, eccoci qua, semplicemente eccoci qua signori, pronti, ecco qua la loro formazione titolare, di loro, insomma, i giocatori, che fa mi sembra gli stessi all'altra volta, l'Ignacio Dennis, che per io tennis è venuto, mi è avuto il dubbio che fosse il tanke Dennis ex Napoli e Atalanta, che poi sarà tornato in Argentina, no, non è quel Dennis, è un altro Dennis, tre tette di mano, fra le due compagini, e questi sono i nostri, perso una sta legna, allora, De Mello Ignazio, perso, davanti a Orban e Astro, davanti a Perso, a Costa Povoletta e a Regna, Davis, Ruiz, Klausen, i nostri titolari, con Minala purtroppo non più a disposizione, non sta tornando più, non mi ricordo più neanche per quanto era previsto, infortunio, non sta tornando in più, ma, insomma, ci siamo noi, ci sono questi, c'è una stasfora pronta, portarsi a casa questa vittoria, però portiamocelo a casa, dai ragazzi, no ragazzi, finchia, proprio, tata, pronti via, non iniziamo bene, quindi ne accio, non iniziamo bene, non è successo niente, non è successo niente, sono in vantaggio, ma adesso dobbiamo fare attenzione, sveglia, signori, dai ragazzi, no, 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 calmi, siamo molto calmi, no, 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 io ho chiesto di fare, perché sono anarchici i miei giocatori, perché, oh, ma che cacchio c'è, calmi, no, 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 calmi, calmi, no, no, fuori, meno male, nuovo person, nuovo person, claus, claus, claus è tutto, mamma e claus, non so che pipì, ragazzi, di qua, che lì, niente, appoggia il mezzo, da 1 a 1, bene, 1 a 1, dai ragazzi, vai Kelly, un'azione di un rocambolesco senza pari, alla fine, alla fine l'abbiamo messa dentro, bene così, mamma mia, un rocambolesco in linea rabbia, bene così, ora mi sento un po' più tranquillo, noi comunque continuiamo a giocarcela, dobbiamo continuare a giocarcela come sappiamo, dai ragazzi, no, 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 è la che cosa, è la che cosa, bravo person, bravo person, hai claus, passala però, passala, passala, tu che vuoi, tu che chiedi il tuo ruolo nel club, le prossime stai mercato, passala, fai le cose quando ti dico io di farle, sveglia, Alfonsino, da fuori, niente, angolo, e la, e la, e la, e la, la, l'allero, e l'allero, e l'allero, e l'allero, e l'allero, e l'allero, non si, non si, baghettos, tranquillo, e vabbè, e vabbè certo, chi è sto novello del Piero, ora voglio sapere chi è sto novello del Piero, Chi è? Lotus Creek Loftus Creek Loftus Loftus Manco si può pronunciare Ruben Loftus Kick Novello del Piero Signori Comunque siamo ancora in vantaggio Stiamo tranquilli Dai ragazzi Fine primo tempo Peccato per sto gol subito Sempre al finale primo tempo Però dobbiamo stare tranquilli Il Crystal Palace sta vincendo Il Crystal Palace sta vincendo In casa del Siviglia Attenzione Dai ragazzi La legna Simone E dai Due a due E dai Bravo Grande Kellin Io mi chiamo Kellin E te la metto pure in semifinale Di Coppa Do Due volte Bravo Kellin Doppietta di Kellin a costa Grande Doppietta di Kellin a costa Gran tiro in questo caso Grande Grande Kellin Grande Kellin E adesso la situazione è messa bene È messa decisamente bene Perché adesso Col 4 a 2 E col 4 a 2 passiamo noi Per i gol fuori casa Quindi loro devono farne altri 3 di gol Bene bene Ora la situazione è messa bene Noi non sottovalutiamo E che non si sa mai Ecco appunto Meno male E c'è perso Che però poi decide di inviare Così Anarchia Anarchia Bravo Bravo Person Bravo Person No Non è Non è Mascarella No Bene Person Ancora Di là Bene A legna A legna Di là Bene Bravo Bell Vabbè dai Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Finissanissimo Uscito No 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 Non è Cosa Col Borg Vediamo se riuscirà ad assorbirla E a rimanere in campo O se dovrà accomodarsi in panchiera Quando è così è brutta Quando è così è brutta Quando è così è un infortunio lungo E in questo caso infortunio lungo vuol dire fine della stagione Perché ormai ci siamo Che brutta cosa Allora io a questo punto Ma io mi devo preservare qualche giocatore Io non so Allora voglio provare Eh non c'ho gesto perché era mezzo stanco To Diamo Esordio di Jimmy in Europa League Jimmy Jimmy esordisce Europa League Dai Per dare il cambio al pavo Dobbbero farci tre gol Riusciamo a non subire tre gol In quindici In quindici minuti di recupero No No Bravo Kelly Mi partiamo Avanti Johnson Johnson Lancia lungo a Kelly Bellissima Regolare Era regolare Era regolare Non diciamo cavolate Era regolare Era regolare Va Eh perché la linea di fuori gioco Alla Se c'era il difensore più in alto Che era più indietro Perché è lì Ma Come non detto No Bravo Alegna Dai Alegna Dai Diciti Dai No Bravo Banno Attenzione Ai tuoi gol Devono farmi altri due Per la quantità di qualificazione Il tempo stringe C'è ancora speranza Questo davvero non ci voleva Adesso devono recuperare Vai recuperare il cacchio Stiamo calmi Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi Al momento Stiamo ancora In vantaggio a noi Stiamo Guardi Ancora noi In confronto Stiamo tranquillità Ragazzi Ragazzi A costo di spaccarlo L'Ottimone Perché ti fa la corsetta No No Ok Ok No 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 Troppo importante No Cantate insieme a me Ale 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 La Gran Meline Ale 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 Col che Che mi faccio giochè Col che Col che Col che Che mi faccio giochè Col che Col che Col che Mi faccio giochè Col che Col che Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Signori Siamo in finale Siamo in finale Europa League Siamo in finale Di Europa League Vinciamo Per i gol fuori casa E il Crystal Palace Sarà un altro finalino Finale Europa League Meraviglio C'è Arus Crystal Palace Arus Crystal Palace È meravigliosa C'è Quanto Che c'è C'è della poesia In questo Finale Europa League Arus Crystal Palace È qualcosa Di Meraviglioso Ora Torniamo a noi Torniamo al campionato L'oratore infortunato Premio torneo Ok Vediamo Vediamo cosa Ah Premio torneo 2004 Ok Sette mesi Porca puttana Sette mesi Significa che non ce l'abbiamo Neanche per buona Eh Sette mesi Grazie Ministra Eh Prego Vuol dire Ci serve una punta Vuol dire Che ci serve una punta Eh Porca puttana Sette mesi Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Si salta praticamente Tutto il giorno È andata L'anno prossimo Porca puttana Ok Va bene Va bene Sì Fietta È tornato Dicembre L'anno prossimo Ok È ufficiale Ci serve una punta L'anno prossimo Ci servirà Una punta Il mitin Pareggia Il mitin Appareggia Possiamo riscavalcarli Dobbiamo solo vincere Sta partita Porca miseria Dobbiamo solo vincere La partita E adesso Io voglio un attimo Rimettere un po' Nette le cose in ordine Sargent Tu sei E no E no No E Bremer No Io intanto Voglio metterci Quelli che sarebbero Come sarebbe la squadra Diciamo Titolare Johansen Poleaga E Dove Galeano Poi il resto Si mette Poi In partita In partita Ti mette Come va a messa Comunque Signori Non vuol dire Che Sargent Ce lo dobbiamo Risparmiare Per la prossima Partita Che è la finale Di Coppa In rimarca Dovremmo giocare Con Johnson Io Io non so Che dire Non so Che dire Mamma mia Che brutta Notizia È stata Sta Sto Infortunio Devastante Una notizia Devastante Veramente Devastante Meglio Klaus Posto Pedersen Simula Posto Di Davis Con Davis Che Si fa Una Si va A riposo E Ci va Sven Dove sei Svensen Lensen Klausen Al suo posto Nio Hansen E Klausen Tu sei stanco E al tuo posto Andrà Eriks Poi Per il centro campo Oleaga Galeano E Ostgard A legna Va a riposo E al suo posto Ci va Jessen E adesso Tutti i centro lampisti Hansen E tutti Jimmy Jimmy Anche tu Jimmy 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 E poi E poi Poi lo mette Johnson Al posto di Sargent Eventualmente Mica Deve essere Che poi Johnson Sare pure Giù di fuori Perché Sargent A sto punto E' titolare Mi serve Per Mi serve Massimo Caso di necessità Provo a schiarlo In ultimi minuti Oh Due infortuni Due infortuni Ci hanno Letteralmente Piegato in due Vabbè Signori Ci proviamo Vediamo Cosa Riusciamo a fare Dai ragazzi Ok Ok Signori Ci siamo Ci siamo Contro Lodensi Dobbiamo Vincere Midteland Appareggiato Abbiamo Un'occasione Più Unica Che Raper Riscavalcare Midteland E portarci A primo Posto Ma per farlo Dobbiamo Riprendere A vincere In campionato Cosa che Da un po' Non stiamo Più Facendo E dobbiamo Riprendere A fare Detto Questo Signore Dai Ragazzi 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 Non sono Mi serve Una vittoria Oggi Per raggiungere La vita N'effetto Bene Giamari 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 E Giamari 1-0 Vai Bene Bene Così Dai 1-0 Bene Così Iniziamo Una partita Bravo Bravo Creo Clause 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 E' già Non è A Clause Scusa Era Ricordo Chiunque Chiunque sia stato Bravo Lui Bene Così 1-0 Iniziamo Bene Mi raccomando Signore Portiamolo A casa Dai ragazzi Oh No No Bravo No 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 Vai Vai Bene Lancia Lungo Oh Vai Giamari Bene Giamari 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 Ehi dai Giamari 2-0 Oggi Oggi Giamari Lo trovo bene Oggi Buon Giamari Lo trovo In palla Bene Così Doppietta Al ventesimo Con Ostegard Che si Penetra Con Il suo Braccio Ma va Bene Lo stesso Bene Così Il nostro Il nostro Prodotto La cantera Col cappello Di Mike Buongiorno Bravo Giamari Simola E adesso Non buttiamola via Dai ragazzi Giamari Giamari Vai Signori Bravo Bremer Bravo Bremer Ok Eh signori Manda via Manda via Manda via Sto Palla Meno 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 Male Meno Male Ok Ok E' partito Un momento Lì Benji Forse No Ok Bella Bella Pasta Giamari Di tripla Giamari Di tripla Giamari Di tripla Signori Giamari Di tripletta La tripla Di Giamari Signori 3 a 0 Benone Così Va bene Non è così Decisamente Benone Così Benone Così Bravo Giamari Bene Te c'è Zettino Rompo Le balle Morcari Vabbè Bene Bene Così Signori Seguo il Campionato Del nostro Giamari Tripletta Questa Partita E se Sbloccato Nel miglior Momento Possibile Dai Ragazzi Johnson Vai Johnson Johnson Come lo Shampoo Vai Johnson Vai Johnson Con le Aga Dira Sulla Fascia Patrick Cross In mezzo Bello Questo Cross Bravo Patrick Bravo Patrick Bravo Patrick Johnson E Albin E Albin La mette Dentro 4 a 0 Bene Benissimo Siamo Quanto Ora Ce la Facciamo A Non buttare Allare Stta Partita Stiamo Chiudendo Il primo Tempo Sul 4 a 0 Ce la Facciamo Nel Secondo Tempo Non Prenderne Altri 4 Così Ce la Facciamo O Ce la Facciamo Bravo Albin Bene Ragazzi Continuiamo Così Dai Ragazzi No 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 Bravo Per Ok Ciamari Niente Come non Detto Johnson Fine Primo Tempo Fine Primo Tempo Signori Ottimo Partita Dominata Sul piano Risultato Sul piano Del gioco Sul piano Di tutto Partita Completamente Dominata Questa La parte Dei nostri E Meno Male Meno Male Che Comunque Non mi Tira Vero Ha Pareggiato Vincendo Ci portiamo Più Uno Bene Così Signori Dai Ragazzi Dai Signori Sì Bravo Per Ma che Sta Cosa Chi T'ha Chiesto Di fare Questa Cosa Cambio Non li Faccio Adesso Voglio Farli Magari Fino In Primo Tempo Non li Faccio Adesso Allora I Cambi Che Faccio Oleaga Sto Posto Hansen Proviamo Lui Io Hansen Posto Erickson E Poi E Poi E Poi Come Morire Allora Io Cambierei Gialmari Però C'è Svenze C'è Svenze Può Schiarare La prossima Centrocampo Jimmy Jimmy Anzi No Al posto Galeano Jimmy Jimmy Al posto Di Ostgard Così Amoni Avanti Non è Non è Ok Galeano Ripartiamo Hansen Niente Scherzavo Ridalla Niente 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 Quanto appassaggi Sono messi Benissimo Devo dire C'è Proprio Pazzesco Ma è che Vaghetto No No Perfetto 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 Potevi Teniddete Bloccava Meno in due tempi rompere le mie scatole inserisci voi ericsson gialmari gialmari poker troppo bello per essere vero troppo bello per essere vero poker di gialmari veramente sarebbe stato troppo bello per essere vero allora primo palo in mezzo a chi vedersene niente johnson prima la johnson poi a prova un tiro se mai troverò lo spazio per per tirare bello è bello 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 su tiro johnson ben proprio bello ok magari a regale regale bene di la johnson gialmari gialmari e niente parata linea vinti il poker a gialmari non glielo si vuole lasciare noi ci vorrà comunque gialmari questa partita veramente scatenato veramente scatenato il nostro caro gialmari tanto johnson poteri qua galeano e niente altra parata di neri meno male che iniziano a parare adesso il loro portiere e non primo tanto ormai quattro gol abbiamo fatti mi può parare quello che vuole galeano e niente ancora neri parla di qua galeano niente lo ammazzano jimmy jimmy prova il cross jimmy vabbè galeano hansen da fuori e ancora parata di neri simula johnson bello sarebbe stato l'inserimento bello sarebbe stato bremer bremer lancio lungo di là ci può arrivare ci può arrivare gialmari non ci arriva angolo ringrazio l'arbitro ma non era angolo mai nella vita in mezzo niente johnson ci prova niente niente da fare che ormai sta finendo la partita la stiamo portando a casa in maniera abbastanza tranquilla bene così signori 4 4 a 0 4 a 0 signori gran bella partita grande la vittoria e soprattutto ci riprendiamo la vetta della classifica questa è importante ci riprendiamo la vetta della classifica a credo quattro tre o quattro giornate al termine con in più lo scontro diretto di mezzo mentre io comunque faccio allo tapio raikkonen io continuo a allenare tapio ma è su tapio per dire sto tapio raikkonen dico dico visto come siamo in emergenza totale sto tapio raikkonen non è che per puro caso posso posso portarmelo su che ha compiuto i 16 anni tapio dove tapio datemi il tapio datemi il tapio ha compiuto i 16 anni signori ha compiuto i 16 anni ha compiuto i 16 anni e poi ci sono in emergenza siamo in emergenza siamo in forte emergenza poi lo proviamo eventualmente alla prossima la proviamo una prossima partita insomma vediamo un po' ora ora diciamo ecco per la prossima partita aspetta sentiamo per la prossima partita vuole vuole giocare e vediamo finale di coppa di danimarca signori finale di coppa di danimarca è il primo trofeo ci giochiamo il primo trofeo della stagione la prima finale prima finale della stagione è coppa di danimarca che noi non abbiamo tra l'altro mai vinto una volta siamo arrivati credo in finale ma non abbiamo mai vinto potrebbe essere la prima volta per scusate per per la nostra compagine intanto allora io ho già al mari già al mari già al mari svensson dove è svensson oh svensson poi johnson che già sei sanco due sinapa in titte già sei sanco raikonel va bene poi io ho ansen sicuramente il sanco ericsson ericsson poi poi ci chiederemo come mai bremer bremer che è stanco su tutti i sanchi il difensore e chi ci metto il difensore ci metto ma fredixson non è che c'ha pure il dc come no c'ha solo terzino l'estero va bene difensore ci avevo uno ce ne avevo uno uno giovane ce l'avevo ecco moller poi e qua ce ne abbiamo tutti stanchi quindi Jimmy Jimmy è stanco jessen e a posto di galeano Hansen boh e Hansen Hansen ma posso di galeano ma da silver adesso sta solo terzino sinistro Mikkelbust Magnusson Magnusson vengono tutti Magnusson Magnusson può fare vuole il cc e cc e ci metto lo proverò Magnusson può fare pure il cc va bene Magnusson Magnusson e allora signori signori finale coppa di Danimarca con i titolari vediamo se riusciamo a portarcela a casa dai ragazzi ok signori signori finale di coppa di Danimarca prima prima possibile trofeo della stagione trofeo che non abbiamo mai vinto sarebbe la prima volta tra l'altro se non mi sbaglio la vittoria è tra gli obiettivi della stagione del come si chiama della dirigenza quindi direi che è importante decisamente importante oh signori vediamo di portarcela a casa dai ragazzi costa bella vai vai sergeant vai sergeant bene ecco no non funziona cosa niente 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 vai sergeant devi si darla a sergeant perché fecco la fascia non riesco a capirlo ma va bene lo stesso sergeant a giro e niente in bocca a ceccherini che co no 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 klaus klaus no andami e dai borg la partita ora cambia la macchiera di grine è saper scurare gli spazi lasciati dalla formazione avversaria a gioco forza scoprirsi per trovare pari vabbè vabbè niente è successo c'è ancora tutta la partita davanti niente è successo dai ragazzi no 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 e dai signori oh 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 eh si vabbè ollie e benji è arrivato è scattato il momento ollie e benji basta saperlo e niente a me clausen di là alfonzino poi alfonzino 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 dove cacchio si muovono quelli che lì ne 2 a 1 vai dai che l'abbiamo riaperta dai che l'abbiamo riaperta c'è comunque 2 a 1 al diciassettesimo primo tempo che cacchio di partita comunque vabbè l'abbiamo riaperta l'abbiamo riaperta 2 a 1 bene dai 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 ragazzi ok 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 di là di là sulla faccia perfetto mezzo zanginti cicli che cacchio ha preso sto portiere che cacchio ha preso no me lo date quello giusto no niente no 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 manda via manda via bravo perso perso di là tira di là ma chi cacchio la dai chi cacchio la dai dobbiamo semplicemente cercare di recuperarla cercare di partire no 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 vabbè questi fanno azioni che questi fanno azioni che veramente veramente all'allie benji no 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 vai che bene bene no vai che no no meno male meno male meno male meno male ok vai che oh noi no 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 di là di là di là niente non 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 mi stanno completamente rispondendo ai comandi giocatori e allora io non quando è così non è che posso farci molto vai vai il davis 2 a 2 e dai signori dai 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 2 a 2 e dai l'abbiamo ripresa oh dai l'abbiamo pareggiata e adesso andiamo a vincere e adesso la andiamo a vincere la dobbiamo andare a vincere adesso bella stazione davis si fa trovare bello pronto bene così primo gol in coppa di marca però funziona davis bene così dai ragazzi bene non sarebbe fuori gioco ma vabbè mi fischia questo e quelli che cosa fine primo tempo ok 2 a 2 2 a 2 che c'è considerando come è iniziata la partita è ottimo finire il primo tempo sul 2 a 2 ci abbiamo iniziato tipo 12 minuti 12 minuti abbiamo preso due gol considerando questo chiudere il primo tempo il 2 a 2 è tanta tanta roba veramente tanta roba adesso però andiamo a fare il terzo gol andiamo a vincere 45 minuti dai ragazzi bravo perfetto vai bella 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 Alfonsino 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 mancato completamente cambi 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 OLEAGA 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 e poi eventualmente Magnussen non lo so io e per ora basta per ora OLEAGA all'arsia il nostro Torian Gray a posto di uno stanco a legna vai bravo Davis no niente no ok perché ecco la no 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 via Mike Krauss vai Davis e dai ma corre niente ma vi fa schifo il pallone mi fa schifo il pallone non lo so ma fanno i finti vabbè no fai che no meno male meno male meno male meno male stanno facendo pressing e io ne ascio provo ad andare di là va bene Dorian Dorian di qua fu la fascia di là perfetto bella per Dorian bel cross Dorian e Sargent 3 a 2 Sargent niente la risolve lui è è è l'NVP di questa stagione Sargent è l'NVP di questa stagione 20 gol in campionato gol che potrebbe risultare decisivo alla finale di Coppa di Danimarca cioè signori decisivo rischia seriamente di diventare l'NVP l'eroe della stagione questo qua grande Sargent grande Sargent bene Josh un solo gol in Coppa di Danimarca ma tanto 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 pesante un gol potrebbe valere una Coppa però noi non dobbiamo buttarla via signori non dobbiamo buttarla via non dobbiamo buttarla via ma avevo perso avevo perso oh cerchiamo di tenla dai ragazzi andrà via meno male meno male meno male no 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 se è fortunato per Sargent io sono nella merda no 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 Sargent ti prego ti prego riprenditi ti prego riprenditi Sargent ti prego ti prego riprenditi anzi no io lo devo sostituire lo devo sostituire aspetta no mica devo sostituire però non dobbiamo subire il gol vabbè non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere io voglio soltanto sperare che di qualche modo si riprenda perché non posso non posso farlo uscire perché se in forma ci serve il Klausen 4 a 3 il Klausen e Klausen non è normale non è normale non è normale tutto ciò non è normale tutto ciò grande Klausen oh bella lì aspetta cambi no io devo farlo uscire no sei ripreso sei ripreso Sargent davvero no se sei ripreso grande oh se sei ripreso grandioso sta cosa no 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 calmi 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 siamo molto calmi meno male che si aspetta abbondantemente sul mondo meno male meno male meno male Sargent che se il tempo sei ripreso dai che vieni qua qua cosa è mello in mezzo no no però no 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 c'è veramente affanculo no 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 non ci non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile invece non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile c'è traversa nostra cambio di cambio di fronte 4 a 4 no io non no 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 siamo nei supplementari Coppa di Danimarca che è la cosa peggiore che potesse capitarci adesso veramente la cosa peggiore e io devo sostituire poi i giocatori ericsson e sven e sven devo fare le sostituzioni che devo passare a pensare anche alle prossime partite devo pensare a tutto stanchi dai ragazzi possiamo possiamo portarla comunque a casa dai ragazzi no no andrà via no 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 vavo perso vavo perso vavo perso porca miseria manda via manda via manda via via io non mi chiedo come sia possibile tutto ciò io mi chiedo come sia possibile tutto ciò non è possibile vabbè dai oh cerchiamo di niente cerchiamo di riprendere questa partita dai 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 ragazzi dai ragazzi ok Klaus bene pavo fargent o le agast effetti luce ogni volta non riesco svencen perché sei lì vabbè cross in mezzo io non veramente questo vabbè ragazzi la difesa la difesa la difesa la difesa dai oh signori dai manda via bravo Kelling dai che porca miseria ma che è questa cosa no no ora ma chi la stai dicendo vero vai vai che è tua non sarà gentilmente vai sargent ancora passala e passala se ammacco passala questo è va bene momento momento lì e benji momento lì e benji va bene e momento lì e benji manda via bravo Klaus sargent sargent se vabbè io ho provato tre volte per il cross basso mi fa la schifezza a mezzo al tecno quindi il primo tempo supplementare finito siamo sotto al 92esimo eravamo eravamo in vantaggio avevamo presto una traversa al 92esimo al secondo tempo recupero su tre minuti recupero sul tre avevamo perso una traversa sul camion di fronte quattro io non so che dire proprio sì però ragazzi vai veramente fai i tacchetti dai io ti ti spacco le ginocchia fai i tacchetti di là cuckoo sargent sargent storge e non ci credo dai era chiaramente uscita era calcio d'angolo ma vabbè ok sargent qua durian niente dai ma cosa ma dove sono che cosa ma che cosa che cosa dai oh dai ignori perché tua niente niente azioni clamorose veramente dolly e benji niente oh manda via manda via manda via nostra no è angolo sempre angolo da me stiamo lì stiamo lì stiamo lì finché non finisce che devono vincere oh oh vai che vai che no oh ok di là di person ma porca miseria ma dai passa ericsson ericsson mezzo di angolo dai vai vai porte vai verso un person vai perso tutti 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 in mezzo tutti in mezzo tutti in mezzo in mezzo noi dai dai ma dai e la coppa di mark anche stavolta è andata anche stavolta la coppia di mark è andata arriviamo ultima partita che buone che buone l'ultima partita allora la ringrazio prego mi tira ha vinto la sua partita quindi noi dovremmo vincere la nostra finito stagione calendario si vede tutti tutti e tre campionato e poi a fine di europa lì con crystal palace io che è lavoroso io non so veramente cosa dire non so veramente cosa dire cioè stagione guadagna 70 milioni dalla media metti in una stagione vabbè c'è almeno 30 successo continentale come fa c'è in più di che vuole fare successo in patria priorità massima e signori è andata così è andata così prossima puntata prossima puntata dovremmo giocare dovremmo giocarci l'ultima tre campionato l'ultima tre campionato la prossima puntata per poi quella dopo c'è un'idea di fare qualcosa di speciale ho un'idea la prossima puntata di darvi la finale europa league integrale per intero signori perché insomma arus finale europa league arus crystal palace penso quanta ignoranza meriti meriti la partita integrale meriti una storia a sé ecco detto questo molto semplicemente saluto tutti con di voi e alla prossima